Pegoiani può offrirvi anche serramenti in PVC di ultima generazione. Qui ne vedete esposti parecchi in tutti i modi di apertura. Ad esempio qui partiamo da uno scorrevole, uno scorrevole traslante con apertura di sicurezza e davanti abbiamo esposto una zanzariera frissettata da grandi dimensioni per proteggervi anche nelle serrate d'estate da insetti. Qui ad esempio c'è il nuovo sistema di Sciurco con apertura verso l'esterno per la vostra cucina e qui la nuova pellicolatura sul lato interno ed esterno del serramento nel colore grigio spazzolato, nuovissimo. Sciurco è in grado anche di offrire un profilo basso spessore con più vetro. Lo vediamo esposto in questa posizione nella finitura a rovere spazzolato scuro e quindi qui avete meno serramento e più vetro. Qui invece lo vedete nella versione tradizionale con il profilo sempre sciurco. L'apertura ricordiamo alta ribalta è sempre di serie. Grazie per l'intelliente. Grazie.